Tagliato questa mattina il nastro per l'apertura della decima edizione di Sottocosta, il Salone Nautico del Medio Adriatico. Continuare a parlare del settore economico turistico della regione Abruzzo con iniziative e convegni oltre a stand che fino al 5 maggio animeranno lo spazio del porto turistico Marina di Pescara. Sono soddisfatto nel dire che ogni anno Sottocosta cresce, aumenta la sua importanza. Per troppi anni diciamo che l'economia del mare in Italia è stata forse trascurata, sottovalutata, ma grazie anche a questo governo oggi abbiamo un ministro sull'economia del mare e si comincia a guardare al futuro con maggior interesse. Per la città di Pescara questo è un evento importante e qui gireranno migliaia di persone interessate all'economia del mare, interessate all'imbarcazione di porto. Per cui è una ricchezza che aumenta le presenze, il turismo e per cui va visto come un'opportunità per la città di Pescara. Le novità quest'anno sono le tantissime barche presenti, il fatto che abbiamo barche in acqua per far vedere ai clienti il prodotto che viene dato dagli espositori, 13 le regioni che hanno partecipato, più di 60 gli operatori che hanno preso parte a questo salone ed è un momento in cui Pescara diventa, all'interno del Marina di Pescara e del Porto Turistico diventa il punto di interesse di tutti i diportisti del centro Italia. Quindi è un'area dove si potrà trovare sia tutta la parte della nautica da diporto, ma anche le attrezzature, l'abbigliamento e quant'altro, tutto dedicato al mare. Tante le iniziative durante le tre giornate, per cui invitiamo tutti quanti a venirci a trovare.